I due amministratori delegati di Research in Motion, l'azienda canadese che produce i telefoni BlackBerry, hanno rassegnato le dimissioni, affidando a un insider il compito di rilanciare il gruppo. Mike Lazaridis e Jim Balsilli passano le redini a Thorsten Heinz, ex-manager di Siemens, entrato nell'azienda nel 2007. Il cambio di leadership era stato richiesto dagli azionisti per rivitalizzare la linea dei prodotti.